Ciao, oggi ti mostro come fare la barba senza usare la schiuma da barba. La barba senza usare la 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 barba. Mi sono bagnato con acqua, acqua calda preferibilmente. La barba senza usare la barba. 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 La barba. Grazie a tutti. 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 Tra l'altro avevo solo una lametta vecchia che ho usato da, non so, mesi. Grazie a tutti. Questo è il risultato. Io non ritengo di essere particolarmente bravo a radermi, quindi è probabile che tu possa fare di meglio. Il punto è che per radersi. Non serve altro che non serve, non serve altro che acqua calda. Grazie a tutti.